Cari sui fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Un motivo di gioia per noi è la presenza nella Chiesa della Madre di Dio, che da sempre, dall'inizio della Chiesa, ha accompagnato la predicazione degli Apostoli. Si nata, per esempio, dell'Apostolo Giacomo, che trovandosi in difficoltà mentre si trovava in Spagna, fu confortato dalla presenza della Madre di Dio, che li venne incontro. La Chiesa è piena di questi eventi, in cui la Madre del Signore e la nostra Madre si è manifestata. Oggi la Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. È in assoluto il primo tempio, la prima basilica, il primo santuario dedicato alla Madonna in Occidente. In Oriente già c'erano state varie costruzioni a onore della Madre di Dio. E in Occidente avvenne appunto a Roma due nobili in una coppia volerò offrire i loro beni alla Chiesa per la costruzione di una Chiesa dedicata alla Madonna. E la Madonna si manifestò il 5 agosto, andando in sogno ai due sposi e a Papa Liberio, dicendo di costruire una Chiesa in agosto. Naturalmente questo avvenne in agosto, che la Madonna che si costruiva una Chiesa lì dove avrebbero trovato la neve, è assurdo trovare la neve. Già in Roma la neve si vede quasi mai, ma poi in agosto, è assurdo. Ma più volte nella Chiesa abbiamo avuto episodi del genere. Se ricordi di Santa Teresina del bambino Gesù che quando entrava in monastero, fece la vestizione, chiese come regalo al Signore il dono della neve, e ciò avvenne attorno al monastero. Così in altri casi il Signore ha manifestato segni di questo tipo. E fu costruito quindi la Chiesa Santa Maria Maggiore, che conosciamo molto bene giustamente durante i secoli, poi è stata ampliata, abbellita, arricchita, e per l'eccellenza la casa del santuario dedicato alla Madonna. E noi ci raddeggiamo, fratelli, per questo dono della Madonna, che continua nella Chiesa a sollicitarci la conversione, il ritorno al suo figlio. Lei sta preparando in tante parti del mondo il ritorno del figlio suo, Gesù Cristo, e la sua potente intercessione è una benedizione continua per la Chiesa. Ricordiamocelo sempre. Allora, noi viviamo nella comunione dei Santi, comune unione dei Santi, cioè tra coloro che hanno fede in Dio, c'è un legame spirituale, sia tra coloro che sono in cielo, sia tra coloro che sono su questa terra. E quindi la Madonna fa comunione con noi, ci partecipa a tutte le benedizioni che lei ha ricevuto. Perché ci rivolgiamo a lei con fiducia? Perché in lei tutte le promesse di Dio si sono compiute. Lei ha ricevuto la pienezza della salvezza, regna insieme a Gesù Cristo con delle potenze di Satana, e quindi in grado di portare a salvezza quando confidano in lei. Nella liturgia di oggi, voi fratelli, la Chiesa ci offre un brano che ricorda l'istituzione da parte di Mosè dell'anno giubilare. Il signor disse a Mosè che conta sette settimane di anni, cioè 49, il cinquantesimo sarà l'anno del giubileo. In quell'anno la terra non dovrà essere coltivata, deve riposare. Ma nell'anno del giubileo, anche, bisognava condonare i debiti. Quindi, se uno vendeva una casa, quella casa aveva valore a seconda della distanza di tempo dal giubileo. Cioè, se il giubileo doveva avvenire 40 anni dopo, quella casa aveva un prezzo. Ma se il giubileo avveniva 10 anni dopo, doveva avere un altro prezzo, perché nell'anno del giubileo la proprietà tornava ai regittimi proprietari, perché la volontà di Dio in Mosè era che nessuno del suo popolo diventasse misero, che nessuno fosse ridotto all'astrico, ma tutti dovevano avere una piccola proprietà. Questo dava segno della nobiltà, della dignità della persona. E quindi, nell'anno del giubileo, bisognava rimettere i debiti. Gli schiavi dovevano tornare liberi, a meno che loro stessi non scegliessero di rimanere nella loro condizione. Era l'anno del perdono. Quando il Papa San Giovanni Paolo II indisse l'anno santo del 2000, nella bolla di indizione dell'anno santo, lui propose alla Chiesa durante quell'anno di effettuare dei segni che dessero senso alla celebrazione dei 2000 anni della venuta di Gesù Cristo. Uno di questi proponeva la remissione del debito dei popoli poveri, perché molti popoli sono talmente indebitati che quello che guadagnano non riesce neppure a pagare gli interessi che loro devono ai popoli ricchi. Voi capite che questi popoli sono condannati a vivere sempre nella miseria, nella delinquenza, nella sola potere di coloro che approfittano. E il Papa chiedeva di liberare questi popoli dal gravame dei loro debiti in Italia e fece una piccola concessione, ma la maggior parte dei popoli sulla terra ignorarono questi inviti del Santo Padre. Ma uno dei segni che Papa San Giovanni Paolo II, anzi il primo segno che lui chiese, fu il dono, il segno della purificazione della memoria, cioè tanti figli della Chiesa durante i secoli hanno commesso peccati. Bene, chiedeva Papa Giovanni Paolo II, voleva lui che durante quell'anno santo tutti i cristiani si dedicassero alla purificazione della vita della Chiesa, della storia della Chiesa, della storia familiare. Vedete, ogni famiglia ha una storia, ma quanti sofferenti ci sono stati in questa storia, quanti peccati sono stati commessi. Ora, il primo principio che lui additava è questo, noi pur non avendone diretta responsabilità, in forza di quel legame che c'è all'interno del corpo mistico, portiamo i pesi degli errori e delle colpe di chi ci ha preceduto. Sono affermazioni sacrosante del Papa. Perciò, dice io come successore di Pietro, chiede che i cristiani in quest'anno di misericordia si incinocchino e invochino la misericordia di Dio per la purificazione appunto della memoria della Chiesa, il peccato, fino a che non è lavato nel pentimento, nel perdono, nella misericordia di Dio, non scompare dalla faccia della terra. E questo San Giovanni Paolo II lo chiede con molta solennità e con molta fermezza perché ci credeva, ricordate come lui dunque andava e chiedeva perdono. Perché? Perché senza il perdono non c'è pace, non c'è giustizia e senza giustizia non c'è pace. Allora, in Francia, nel 97, chiese il perdono agli ugonotti che Caterina De Medici la regina reggente allora della Francia fece massacrare nella notte di San Bartolomeo del 24 agosto e di quell'anno bene quando andò tra nei popoli slavi chiese perdono il giustizio in Africa ai negri per lo schiavismo perché se non c'è pentimento, se non c'è conversione, non c'è remissione di colpa. Il male non scomparre dalla faccia della terra. Voi vedete oggi fratelli si sta dando piena libertà al peccato. Guardate per esempio la pornografia. Cito questo non perché sia il peccato peggiore o il più grave di tutti, c'è molto di peggio ma guardate come si sta diffondendo senza argini quante persone stanno distruggendo le loro famiglie. E ecco allora il giubileo. Rimettere i peccati convertirsi, fare pace con Dio per portare pace su questa terra. Signore Gesù tu sei la vittima dei nostri peccati e tu vuoi che la tua chiesa viva in uno stato continuo di anno giubilare nel rimettere i peccati degli uomini ma anche nel pagare per i peccati degli uomini. Tu hai scelto tante persone che si sono offerte vittime alla tua misericordia per riparare i peccati degli altri e tu vuoi che ogni cristiano prenda coscienza che nella chiesa non solo è chiamata a vivere rettamente e santamente ma a farsi carica anche i peccati degli altri non giudicando e condannando ma unendosi alla tua passione alla tua morte alla tua risurrezione per la salvezza dei fratelli illumina tutti oggi su questa grande verità che tutti quanti ci apriamo non al giudice e alla condanna che porta alla morte ma alla tua misericordia che dà sempre motivo di speranza e di salvezza perché tu sei misericordia eterna a te l'ode e gloria per tutti i secoli dei secoli Amen e tu Vergine Santissima Madre di misericordia Regina di misericordia opera oggi in mezzo a noi conduci tutta la chiesa a essere nel mondo intero quel lievito che la fa fermentare nella santità che elimina il peccato con la santità della propria vita e con la fede nel figlio tuo Gesù Cristo con la fede nel suo sangue prezioso per portare salvezza a tutta l'umanità a Gesù tuo figlio nostro Signore sia gloria in eterno e voi fratelli vivete sempre nello spirito giubilare 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 significa gridare di gioia e in mezzo di questo mondo lodate il Signore proclamate le sue lodi Amen Amen